Buongiorno amici, un salutone dal vostra Dobora. Allora, volevo andare avanti subito con il libro Un Corso in Miracoli e precisamente con la lezione numero 71. Partiamo! Solo il piano di Dio per la salvezza funzionerà. Puoi non renderti conto che l'ego ha stabilito un piano per la salvezza in opposizione a quello di Dio. È questo il piano in cui credi, poiché è l'opposto di quello di Dio. Credi anche che accettare il piano di Dio al posto di quello dell'ego significa essere dannati. Questo suona assurdo, naturalmente, eppure dopo aver considerato esattamente quale sia il piano dell'ego, forse ti renderai conto che per quanto assurdo possa essere tu ci credi davvero. Il piano dell'ego per la salvezza si incentra sul serbare rancori. Esso sostiene che se qualcun altro avesse parlato agito in modo diverso, se qualche circostanza esterna o qualche evento venisse cambiato, tu saresti salvo. Così la fonte della salvezza viene costantemente percepita come esterna a te. Ogni rancore che serbi è una dichiarazione e un'asserzione in cui credi, che dice, se questo fosse diverso, sarei salvo. Il cambiamento mentale necessario per la salvezza è così demandato a tutto e tutti, eccetto che a te stesso. Il ruolo assegnato alla tua mente in questo piano, quindi, è semplicemente determinare che cosa di diverso da essa stessa debba cambiare perché tu possa salvarti. In base a questo folle piano, ogni fonte di salvezza che si percepisce è accettabile, a patto che non funzioni. Questo assicura che la ricerca infruttuosa continuerà perché l'illusione insiste nel fatto che, sebbene questa speranza sia sempre fallita, vi sia ancora un fondo di speranza in altri luoghi e in altre cose. Magari un'altra persona servirà meglio, forse un'altra situazione offrirà successo. Tale è il piano dell'ego per la tua salvezza. Puoi sicuramente vedere come esso sia in stretto accordo con la dottrina fondamentale dell'ego. Cerca ma non manovrare. Perché? Cosa potrebbe garantire con maggiore sicurezza che non troverai la salvezza se non l'incanalare tutti gli sforzi, tutti i tuoi sforzi nel cercarla dove non c'è? Il piano di Dio per la salvezza funziona semplicemente perché seguendo la sua guida cerchi la salvezza lì dov'è. Ma per aver successo, come Dio promette che avrai, dovrai essere disposto a cercare solo là. Altrimenti il tuo scopo sarà diviso e tu cercherai di seguire due piani per la salvezza che sono diametralmente opposti in tutto. Il risultato può portare solo confusione, infelicità e un profondo senso di fallimento e disperazione. Come puoi sfuggire a tutto questo? In maniera molto semplice. L'idea odierna è la risposta. Solo il piano di Dio per la salvezza funzionerà. Non può esserci nessun vero conflitto a questo proposito perché non c'è un'alternativa possibile al piano di Dio che ti salverà. Il suo è il solo piano il cui risultato è sicuro. Il suo è il solo piano che avrà successo. Esercitiamoci oggi riconoscendo questa certezza e rallegriamoci del fatto che c'è una risposta a quanto sembra essere un conflitto senza possibili soluzioni. Tutte le cose sono possibili per Dio. La salvezza non può essere che tua grazie al suo piano che non può fallire. Incomincia i due periodi di pratica più lunghi di oggi pensando all'idea odierna. Rendendoti conto che contiene due parti, ognuna delle quali dà uguale contributo al tutto. Il piano di Dio per la tua salvezza funzionerà e gli altri piani non funzioneranno. Non permetterà a te stesso di deprimerti o andare in collera nella seconda parte. Essa è implicita nella prima. E nella prima c'è la tua totale liberazione da tutti i tuoi tentativi folli e da tutte le tue pazze proposte per liberarti. Hanno condotto alla depressione e alla collera, ma il piano di Dio avrà successo e sopporterà alla liberazione e alla gioia. Ricordando ciò, dedichiamo la parte rimanente dei periodi di pratica più lunghi chiedendo a Dio di rivelarci il suo piano. Chiedigli molto specificatamente. Che cosa vuoi che io faccia? Dove vuoi che io vada? Che cosa vuoi che dica e a chi? Dagli piena responsabilità di quanto resta del periodo di pratica e lascia che egli ti dica ciò che bisogna che tu faccia nel suo piano per la tua salvezza. Risponderà in proporzione alla tua disponibilità ad ascoltare la sua voce. Non rifiutarti di ascoltare. Il fatto stesso che stai facendo gli esercizi dimostra che hai una certa disponibilità ad ascoltare. Questo è sufficiente per stabilire il tuo diritto alla risposta di Dio. Nei periodi di pratica più brevi, di spesso a te stesso che il piano di Dio per la salvezza è soltanto il suo. Funzionerà. Sta attento oggi a qualunque tentazione di serbare rancori e rispondi ad essi con questa forma dell'idea odierna. Serbare rancori è l'opposto del piano di Dio per la salvezza. E solo il suo piano funzionerà. Cerca di ricordare di l'idea di oggi circa sei o sette volte ogni ora. Non potrebbe esserci modo migliore di trascorrere un mezzo minuto o meno del ricordare la fonte della tua salvezza e del vederla dove si trova. Bene amici, adesso rileggiamo la frase chiave di oggi. Solo il piano di Dio per la salvezza funzionerà. E per questa lezione 71 è tutto. Che dire? Se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati nell'uscita di ogni nuovo video sul canale. E ricordatevi sempre che vi voglio sempre sempre di più un mondo di bene e ci vediamo alla lezione 72. Ciao!